Buongiorno a tutti ragazzi, questa è un'altra parte, la seconda parte dell'apertura del box E siamo tornati! Questa è il Pokémon Itty Collection E ci sono anch'io! Bene! La prossima bustina la dirò io Vai, quale vuoi scegliere? Quella di Darkrai Ok, no, scelgo io Cresselia Cresselia che... E' po' uo Allora, nella scorsa parte abbiamo già trovato due Olo Tra cui due bellissime E una Olo Riverse E una Olo Riverse Cosa? Tre Olo Perché? Non erano tre Erano due No, erano due Allora, abbiamo, vediamo un po' Gremiao Creppy Widow Eccan Wishmur Questa carta è molto buona per chi ha nel mazzo una livello X Poi hanno un... Questa è... hanno un G-Guard Slotel L'altro Slug Marverse Slug Marverse E' la rara e un on-dum Beh, e ora tocca a me con Dialga, guarda un po' No Ah, un palchia Queste sono le comuni Che Spalchia Aia Ma io sa che voi si possono apri anche sile, se Epic fail Allora, vi a un po' Tocca a me o... Lo so Clamper E ho visto qualcosa, te lo dico Gremiao Crabby Widow Ti ho detto che ho visto qualcosa lì dietro Sì, è Hans E... palchia E... palchia, quelle mi servono E la diaga mi sa che non si trova tanto possibile Ragazzi, io direi che questo è stato un box molto fortunato Anche se ancora non ho trovato i... come si chiamano... i tre starterolo Allora, questo lo dico io Cacnea Love Disc Gremiao Unknown L Solrock Amulet Coin Dark, a una persona è arrivato qualcosa che potrebbe farti molto contento Untile Unknown G Oh, oh, wow Wow Ti sto alzando il dito Blazy Guerraverse Io voglio quello E Kingler Raro Quello reverse è mio Oh, oh, oh Oh, oh, oh Che ne dici? Dark, oh, oh Blazygen Quello oro che troverai è mio perché lo troverai, bastone A Dark piace molto Blazygen La reverse è mia Allora Allora, diciamoli un po' Porygon Fibas Fottuto Fibas di merda Kakuna Baltoy Tojipi Makargo ancora Zangius ancora Relicanza ancora Capurne reverse Reverse Eeeh Uh, Butterfree Raro C'è ancora nessun doppione Bellissimo box per il momento Intanto abbiamo già trovato Blazygen e Dark sta rosicando Sta morendo Dark Sta muore Prendo fuoco a Minecraft Ah, ok, afficca poco Spera di trovare in questo bustino il Dark Raiolo Spera di trovare in questo bustino il Dark Raiolo Mario sta andando fuoco al mondo Porygon Baltoid Volbit Drozzi Nobull Lino Che roccio è mio Wildmare E ha uno nef Fake Oh, 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 oh Milotic reverse Milotic reverse E Che è la rara Quindi mi serviva molto Oh Rotomolo Io l'ho reverse Questa è, dicevo, che è una delle carte Olo più belle del gioco Infatti è bellissima E' epica questa carta Questa la dico, uh, combination Due di alga Questa la dico io, ragazzi E' una rara con calore Ah? Niente, niente La ditta è più bella il mio rara con calore Sefioc, sefioc Allora Monkey Drouzi Giglipop Baltoid Torchic Marchstamp Amulet Torchic volta bene Con basket Anche con basket Snowball reverse E Togekiss Olo Bene, tocca a me adesso Mamma mia ragazzi Abbiamo quasi trovato tutte le Olo Per dire Cioè, ce ne mancano due alla fine No Tre Tre quali No, ci mancano Swamper Swamper C'è File? Blazy Blazy Che l'abbiamo trovato Reverse Ah no ragazzi Cresselia Manca Cresselia Olo No, quelle non si trovano Allora Vediamo un po' Abbiamo Slowpoke Metto così Forse Swavlu Caruccio Torchic Tangela Clamper Seviper Questa in tutti i pacchetti Qui ho aperto Non l'abbiamo ancora trovata Schermory Mio Slowbro Oh Whising reverse E la Rara Oh, questa la volevo trovare Questa è Wailord Rara Che è la carta con più HP del gioco 200 HP, punti vita volevo dire 200 Abbiamo stati molto fortunati Tocca a me Se trovi un'altra mia Se trovi un'altra Wailord Sì Ok Tiocco Voglio un po' troppe cari Sarò come pagarlo Oltre al box difficile da aprire Abbiamo anche le bustine difficili da aprire Yeah Dai che mi serve una delle olo particolari Embi Ondum Ondur Fottiti Trehor Oregon Weasel Relicant Seviper Ora pioverà Oh, ma cargo reverse Che è non comune E la rara è Ondum Raro Già l'ho trovato Ok ragazzi Credo che per questa parte sia tutto Stai scherzando? Un'altra bustina Ok Io non faccio una prima o l'altra Non c'è problema Questa la dico io Veramente Questa è la penultima Poi ne apriamo un'ultima Oh, finisco io E quindi la prossima parte incomincio io Caterpie Che ancora non abbiamo trovato Eggans Togepi Fibas Totus Fibas Lainon Mia Anonfake Pelipper Love Discreverse E la rara Cresselia Cresselia Olo Adesso Mi interessa Soltanto Trovare Vabbè Una livello X Ma credo che la Livello X Del box Già L'abbiamo trovata Speriamo di No Di trovare un'altra Le due carte Olo Oppure reverse L'evoluzione Insomma Un blazing Un altro blazing Perché lo vuoi Olo? Vite almeno Liberti se vuoi Allora no Nessun blazing Anzi Tu non vuoi farti il set di questo? Sì E allora Allora Abbiamo Swablu Monkey Cacnia Slopo Monkey Porigo Anon G guard Ma cargo Fottuto stronzo Di merda Slubro E la reverse Oh wow E vai E la Olo E la Già Questo è mio Lo voglio Già l'avevo preannunciato Fosse una Olo E Darkrai La voglio Nella prossima parte Aspetta Fiocco Quanta fretta Un'ultima per favore Tocca a me Tocca a me Quello Darkrai è mio Insomma al blazing Troverai presto Ehm Però di Darkrai Ti darò quello Reverse Make free Io spero Io spero Tanto che non trovi Blazing Devi morire Grazie Allora Sono male Giglipo Ah no Che dico Giglipo 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 Lugma Caterpie Marti Glemia Wild Lion Arnon fake Marscom Proverse E Prime e Praro Che ancora non avevo trovato Ok ragazzi Fiocco Fiocco Sei un impaziente Questa è l'ultima Ok fiocco Visto che sei molto contento E la dico io Mamma mia Questo ragazzo Tiene una fretta Di andarsene O di morire Qualcosa del genere Oh vuole giocare a minecraft È un trucato Fibas Kakuna Balte Togepi Unknown L Link Link One Light Stadium Ma ancora non l'abbiamo trovata Flozzel Ugrovail Clamperl Reverse E Tangrow Tolo Già avevo perciò non l'ha cercavo Ora nel stelle Aramaico No dopo Ok questo Oh LOL Allora questo Era dicevo L'ultimo L'ultimo pacchetto Nel prossimo video Ne dobbiamo aprire Ancora un bel po' Ragazzi Quindi Commentare Votare Inscrivete al canale Traduco in inglese Subscribe E Quindi Sì Subscribe E le altre due parole Ah giusto Comment and subscribe Comment and subscribe And subscribe Allora E puntate Ci saranno Vote Vote Altre due parti Credo Quindi alla prossima Arrivederci Ciao 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 aina